Sono passati 11 anni da quando il 22 novembre del 2008 perdeva la vita nel crollo di una controsoffittatura al liceo Darwin di Rivoli, Vito Scafidi. La giornata del 22 novembre è diventata la giornata della sicurezza nei plessi scolastici e a Rivoli si è deciso di celebrarla con un corteo degli studenti ma anche delle autorità locali, corteo che si è concluso con la commemorazione di Vito Scafidi qui al liceo Darwin. Era presente il ministro della pubblica istruzione a testimoniare l'interesse del governo su questo tema. Signor Ministro abbiamo visto oggi ragazzi e studenti molto preparati, il governo ha quello che chiedono famiglie e studenti, cosa ha risposto in questi anni, cosa potrà rispondere nei prossimi anni? Noi siamo impegnati a fare in modo che la sicurezza sia la pietra miliare dell'approccio alla scuola, non esiste innovazione e cambiamento senza sicurezza e mettere la sicurezza scolastica al centro del dibattito nazionale. Abbiamo cominciato a stanziare tutti i finanziamenti che riuscivamo a trovare, finanziamenti diretti e finanziamenti attraverso prestiti internazionali e nazionali e stiamo lavorando sempre di più con i comuni e gli enti provinciali che sono quelli che si prendono poi la responsabilità di realizzare i lavori perché sono loro che gestiscono le nostre scuole per poter intervenire in maniera tempestiva. Abbiamo bisogno di più soldi, quelli che abbiamo stanziato sono molti ma abbiamo anche bisogno di nuove norme e un percorso molto più accelerato e tempestivo per realizzare i lavori. Oggi la lezione l'abbiano fatta i ragazzi, l'abbiamo visti molto preparati su questo tema? Sì, l'hanno fatta loro, continuano a farcela loro e è bene che si prendano cura di questi temi, si parla di innovazione, sostenibilità, scuole sicure anche perché fa parte di quella infrastruttura immateriale, cioè la cultura della sicurezza che è molto importante. Gli enti locali hanno un'interlocuzione con il governo per le risorse, sta andando bene questa interlocuzione? Sì, i temi sono due, ovviamente c'è la montare delle risorse dove ciascuno cerca di mettere al massimo ovviamente delle disponibilità sul tema delle scuole e delle manutenzioni e poi c'è il tema delle procedure che è forse quello più complesso, cioè molto spesso i soldi vengono stanziati ma noi possiamo spenderli anni dopo. Quindi bisogna cercare, come ha detto il Ministro, ha anche fatto un'apertura molto importante su questo, di avere procedure più snelle che permettano poi agli enti locali di spendere.